E' ancora in corso al Ministero dello Sviluppo Economico l'incontro importante, come già abbiamo sottolineato nel precedente collegamento, in merito all'avvertenza Eni-Gela. Al tavolo del confronto ci sono i vertici del corosso industriale, ci sono i responsabili di Castello, o in questo caso del Ministero dello Sviluppo Economico, c'è il sindaco di Gela, il suo vice Simone Siciliano, consiglieri comunali per trattare una vicenda che oramai si trascina dal 6 novembre del 2014. In quella data proprio il Ministero dello Sviluppo Economico fu firmato il protocollo d'intesa per la riconversione green della raffineria Eni-Gela. Però da quel giorno ad oggi di acqua sotto i ponti ne è passata tanta, i cantieri ancora non sono partiti, di riconversione non se ne parla e giustamente gli operai dell'indotto e del diretto protestano in maniera vibrata. Ci sono stati numerosi presidi, Gela, uno sciopero generale, sono scese in piazza anche le donne, donne che sono arrivate oggi qui a Roma a seguito dei propri mariti per sostenere un'avvertenza che oramai, come dicevamo, si trascina da molto tempo. Prima dell'incontro di oggi abbiamo raccolto alcune testimonianze, abbiamo sentito i segretari e confederali di Cigelle, Cisle e Will, sentiamo cosa hanno detto ai nostri microfoni. Cosa vi aspettate oggi dall'incontro che potrebbe decidere le sorti di un'intera città? Oggi vogliamo innanzitutto avere da parte dell'ENI alcune anticipazioni dei lavori e nello stesso tempo avere anche da parte del governo gli ammortizzatori sociali sino a quanto non iniziano i lavori sia della green sia della piattaforma, questo è l'obiettivo principale. I cantieri perché non partono? Dalla 6 novembre del 2014 ad oggi di acqua sotto i ponti ne è passata, è tanta. Sì, c'è un ritardo della politica nazionale e regionale, suggeriti elettorizzativi, però c'è anche un impegno dell'ENI a proseguire sul protocollo e noi dobbiamo utilizzare questo impegno affinché si concretizzi perché Gela ha la necessità di uscire dal tunnel, questa necessità è vertita dai disoccupati, da tanti genitori che hanno i figli a casa e da tanti lavoratori che sono stanchi di vivere di cassa interazione pregiunto in ritardo e non di lavoro produttivo e siamo qui per questo. Lo sviluppo di Gela non rappresenta solo uno sviluppo economico per la città di Gela ma per tutto il comprensore, ci sono dipendenti dell'indotto e del diretto che abitano a Niscemi, a Riesi, ovunque, a Caltanissetta, da Favara, pertanto trovare la soluzione oggi non significa dare risposta a Gela ma dare risposta almeno a buona parte della Sicilia. Dunque abbiamo sentito i segretari confederali, Ignazio Giudice per la CGL, Maurizio Cassania per la UIL ed Emanuele Gallo per la CISL, le sigle sindacali sono compatte in merito alla vertenza Gela. Abbiamo raccolto anche la testimonianza del consigliere Totogallo che assieme ad altri colleghi oggi ha raggiunto la capitale ed ascolteremo nelle prossime interviste anche la dichiarazione di alcuni gelesi che hanno lavorato allo stabilimento, hanno finito la loro esperienza lavorativa ma sono preoccupati per il futuro dei propri figli. Sentiamo. Sarebbe un passo avanti se l'Eni insieme al Governo dessero delle date certe sull'inizio dei lavori. Gela quello che aspetta, noi l'abbiamo detto più volte, è il lavoro. Il Consiglio Comunale è vero che è d'accordo anche sugli ammortizzatori sociali, però l'obiettivo nostro che è quello non della vertenza Eni ma della vertenza Gela è che perlomeno ripartano i cantieri e si inizi a lavorare. Questo ci chiede la gente, questo è il mandato che ci ha dato la gente e noi come rappresentanti dei cittadini gelesi chiediamo questo a Leni. Siamo venuti qua a Roma perché abbiamo tutti i figli grandi e sono tutti disoccupati, abbiamo tutti e quattro figli tutti disoccupati e pure noi i soldi non ce ne sono e vogliamo il lavoro. Io sono un pensionato però ho i figli che sono tutti disoccupati e purtroppo manca questo lavoro per tutti. Vorrei dire due parole al signor Renzi che si dà una mossa per tutti, per la Sicilia e al signor Crocetta che si danno una mossa per tutti noi. Prima dell'incontro abbiamo raccolto anche la testimonianza di un gelese, Carmelo Turco che si occupa dei rapporti tra l'Eni e il territorio. Sentiamo cosa ha riferito al nostro microfono. Oggi è un incontro per verificare lo stato dell'arte e dell'applicazione del poterlo d'intesa. Faremo delle opportune verifiche, ascolteremo e dopo di che poi valuteremo quelle che sono le risultanze. Ovviamente l'auspicio è che si dia un'accelerata definitiva a tutti quei processi autorizzativi che da tempo si aspettano e che potrebbero determinare il riavvio delle attività all'interno dell'indotto. Per adesso è tutto, ridiamo la linea a Fabiola Polara per il telegiornale. Noi ci risentiremo nelle prossime edizioni con la speranza, l'auspicio, l'augurio che da quella porta del Ministero dello Sviluppo Economico possano uscire risultati incoraggianti per il futuro di Gela. Intanto è tutto, linea allo studio.